Indagini a tutto campo per individuare il misterioso Fleximan. Gli artigiani dicono gesto incivile ma i Velox incassano 13 milioni e 8 nella provincia di Padova. Dopo gli ultimi episodi di autovelox segati dal fantomatico Fleximan, i sindaci padovani rispondono sulle nostre strade, dicono come strumento di prevenzione, non per fare cassa. Due incidenti nelle ultime ore nel Padovano, grave uno dei due feriti coinvolto nello scontro tra due auto a Villa Franca, un ferito anche a Terrassa. Era stata disposta per lui la misura del bracciale elettronico per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie, ha scelto di distruggerlo e finito in carcere. Una nuova rotatoria aperta lungo la Monserice Mare che interessa numerosi comuni del territorio, l'obiettivo è eliminare gradualmente tutti gli incroci a raso. Trapianto record nell'azienda ospedaliera di Padova, impiantato il fegato di un 92enne a cuore a fermo, un donatore non era mai stato tanto anziano. Lutto nella comunità dei frati del Santo, a 91 anni si è spento padre Francesco Antonio ruffato, i funerali domani in Basilica. Buongiorno e benvenuti al Tg di Telenord Est. Apriamo ancora questa edizione con Fleximan, con quello che sta succedendo in Veneto, non solo in provincia di Padova e soprattutto con le indagini dei carabinieri. Vediamo il servizio. Una traccia del suo passaggio. I vigili della Federazione del Campo San Pierese stanno passando a setarci i varchi elettronici di ingresso ai dieci comuni che ne fanno parte, alla ricerca del misterioso giustiziere che nella notte tra lunedì e martedì ha segato il Velox posizionato lungo la strada provinciale Brentana a Villa del Conte. Qui Fleximan avrebbe usato un giratubi manuale, su di lui quattro procure hanno un fascicolo aperto contro i gnoti, si indaga per danneggiamento, interruzione di pubblico servizio e anche per furto aggravato perché nell'ultimo blitz il misterioso giustiziere avrebbe fatto sparire il dispositivo elettronico all'interno. Dopo il tredicesimo colpo potenziati i dispositivi di controllo sul territorio da parte delle forze dell'ordine, per riuscire a individuarlo si valuta anche il posizionamento di fototrappole. Un Velox da 11 multe al giorno di media, quello segato lungo la provinciale Brentana che non sarà riattivato a breve, questo l'annuncio di Sara Gaiani, presidente della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, che continua a ribadire la sicurezza di chi viaggia sulle nostre strade resta la cosa più importante. Sentiamo il parere dei sindaci su questo argomento che li riguarda piuttosto da vicino. Sentiamo le voci di alcuni sindaci coinvolti in questa vicenda. Magari non direttamente, però i primi cittadini sono di solito i diretti responsabili della scelta in alcune situazioni di posizionare un Velox in una zona piuttosto che in un'altra. Sentite cosa ci hanno detto. Io sono sicuramente contrario a attacchi di questo tipo, perché a tacere d'altro si tratta di reati, quindi non vanno fatti, sono contrario. Detto questo, se non si è d'accordo sull'installazione di strutture, ci sono tutti i mezzi democratici. Noi ci siamo impegnati a fare le due rotatorie e a mettere un sistema di controllo di velocità. Poi è capitato un po' di tutto, io penso ci siano delle ragioni da valutare. Lo faremo con tutti i sindaci. Una cosa è certa, quando uno passa 157 km all'ora su una strada come questa e alla fine pagano multa e passa tutto, c'è qualcosa che non va. Su questo tema così complesso e che coinvolge così tante fasce del vivere civile quotidiano del Veneto, intervengono anche gli artigiani. C'è collegata con noi Chiara Gaiani che ci fa un po' il punto della situazione. Buongiorno Chiara. Ferdinando, buongiorno. Buongiorno ai telespettatori. Siamo a Cadoneghe, nell'azienda di Luca Montagnin, presidente di CNA Padova e Rovigo. Come dicevi, sì anche gli artigiani intervengono in questo ampio dibattito causato appunto dall'ultima azione di Fleximen, due colpi nel Padovano proprio molto negli ultimi giorni. Perché? Perché si sono messi a studiare i dati gli artigiani e hanno visto per esempio che nella sola provincia di Padova nel 2022 da multe di autovelox sono stati incassati dai vari enti 13,8 milioni di euro. Una cifra che incide molto, soprattutto su chi sta molto su strada, come le aziende che rappresenta Luca Montagnin, che ovviamente sulla sicurezza stradale nessuno discute. Azioni come questa, come quelle di Fleximen, vanno condannate, ma resta la sensazione che dietro ci sia cassa. Sì, proprie azioni come queste portano proprio in superficie quel malessere che stiamo vivendo un po' tutti quanti. E quale? Quello che questi autovelox sono installati per far cassa. Non tanto su posti importanti per la salvaguardia del cittadino e per la sicurezza stradale, ma su posti anche solo per far cassa. Questo non va bene. Questi strumenti devono essere utilizzati proprio per la salvaguardia del cittadino. Noi come associazione rappresentiamo delle grandi categorie importanti degli autosportatori che tutti quanti i giorni sono sulla strada e vivono in prima persona proprio queste difficoltà e magari queste penalizzazioni di prendere multe. Se pensiamo proprio, come si diceva, che il comune di Padova ha incassato circa 14 milioni di euro e facendo poi una divisione per i mezzi che hanno circolato nelle strade della provincia e per le persone che abitano, beh, vediamo che arriva quasi una tassa occulta che è di 89 euro a Padova, mentre a Rovigo questa tassa diventa 73 euro perché ha incassato circa 3 milioni di euro. Allora, a fronte di queste cifre, io chiedo alle istituzioni di osservare, di stare molto attenti e di lavorare assieme in modo tale che non si faccia cassa, ma si lavori proprio insieme con le nostre associazioni per garantire, uno, la sicurezza stradale e per magari insieme valutare anche dove poter mettere e installare questi dispositivi che, ripeto, devono essere per sicurezza, per cittadini e per tutti quanti noi e non per far cassa. Pensiamo a un artesano che magari ha 4-5 furgoni che sta lavorando, ha di là dei punti della patente che perde, ma quegli 89 euro a Padova e 73 euro a Rovigo diventano un moltiplicatore per cui un'azienda artesana o un'azienda di autotrasporti si trova a dover sporsare migliaia e migliaia di euro. Questo non va bene, non lo possiamo permettere. Ecco, noi tra l'altro siamo a Cadone, che quest'estate vi abbiamo raccontato le 90.000 multe fatte dai due rilevatori di velocità lungo la strada 307 del Santo, multe che sono state annullate, il Comune lo ha annunciato. Questo però anche la vostra azienda ne ha prese molte. lì è stato un momento anche molto critico, anche di tensione. Certo, la nostra azienda ha preso 10 multe e i miei collaboratori hanno avuto non solo la multa che abbiamo pagata noi come azienda, ma hanno avuto una segnalazione sulla patente per cui si sono trovati con dei punti di decurtazione. Questo non va bene perché noi, come dicevo prima, come azienda abbiamo dovuto sborsare più di 1.000 euro per pagare le multe. questi sistemi non funzionano, funzionano solo se sono rivolti alla sicurezza del cittadino e alla sicurezza stradale. Ecco che purtroppo questo malessere poi manifesta. E ripeto, non è giusto perché è un bene pubblico, che lo paghiamo tutti quanti, non ci si fa giustizia da soli, ma si pade, si condivide e si porta in superficie, per cui come associazione noi condanniamo questi fatti qui, però come associazione abbiamo voluto guardarci dentro perché questo porta proprio in emersione questo malessere che tutti quanti noi artigiani e autotrasportatori che dalla mattina alla sera corriamo sulle nostre strade siamo sottoposti a questa tensione. Allora io ringrazio Luca Montagnin, ovviamente di questo argomento continueremo a discutere, ringrazio anche per la collaborazione tecnica Federico Cibotto e ti restituisco la linea. Noi ringraziamo Chiara Gaiani e il suo ospite per questo approfondimento, per questo punto di vista. Sentiamo, chiudendo la pagina dedicata a Fleximan e agli autovelox nel Padovano, altre due figure istituzionali. Sulla vicenda degli autovelox danneggiati intervengono anche due figure istituzionali che hanno però ben chiaro il punto di vista dei sindaci. Il deputato Alberto Stefani, segretario veneto della Lega, che è tuttora sindaco di Borgoricco. Seppur questi atti vandalici siano da condannare, credo che sia fondamentale ascoltare il disagio dei cittadini sulla tematica degli autovelox. L'Italia è il paese che ha più autovelox d'Europa, 11.000 rispetto ai 4.000 della Francia e ai 5.000 della Germania. Segnale che un abuso di questi strumenti c'è stato, bene la stretta, bene i limiti a questi strumenti e credo si debba andare nella direzione di misure prevenzionistiche, quindi di postazioni che funzionino soltanto con gli appostamenti della polizia locale e magari con un utilizzo di questi strumenti soltanto in alcuni orari della giornata. Spesso gli autovelox colpiscono persone che vanno al lavoro e noi questo non lo possiamo permettere. A mediare tra condanna del gesto e disagio dei cittadini ci prova Elisa Venturini, vicepresidente veneta dell'Associazione dei Sindaci, ma anche a sua volta primo cittadino per due legislature di Casalserugo. I sindaci condannano questi atti di vandalismo che si verificano sul territorio, però dall'altro lato ci rendiamo conto che viene manifestato dai cittadini un disagio di fronte al quale quindi una riflessione va fatta. Insomma gli autovelox devono essere installati dove effettivamente servono e non per fare cassa. Ed evitare quindi poi quelle situazioni che creano quel malcontento da parte dei cittadini che poi possono sfociare in atti come abbiamo visto di vandalismo. Questo punto di vista ANCI con ACI con prefetture può fare una valutazione proprio per capire come procedere al meglio. Stiamo sulle strade della provincia perché ieri un mezzo di Bus Italia con degli studenti a bordo che stava viaggiando da Monserice Est si è schiantato sulla cuspide stradale in via Zuccherificio a poche centinaia di metri dal centro cittadino. non ci sono feriti se non l'autista forse colto da malore e una studentessa che sono stati visitati in pronto soccorso. Invece due incidenti e tre feriti sulle strade del Padovano. Vediamo. Ancora incidenti sulle strade del Padovano dove nel giro di 12 ore sono rimaste ferite tre persone. Erano le 18 di ieri quando in via Madonna, terrazza Padovana nello scontro tra due auto si è registrato il primo ferito il conducente di uno dei due mezzi estratto dai vigili del fuoco intervenuti da piove di sacco. All'alba è toccato a via Campodoro a Villa Franca Padovana intorno alle 7 nello scontro tra due auto due persone sono rimaste ferite una di queste è stata trasportata in ospedale a Padova in gravi condizioni. Ancora cronaca con un uomo che aveva il braccialetto elettronico l'ha rotto ed è finito in carcere. Ad inizio anno i carabinieri della stazione di Vigo d'Argere avevano applicato un braccialetto elettronico ad un 39enne moldavo per imporgli il divieto di avvicinamento all'ex moglie e alla figlia. L'uomo però ha pensato bene di manometterlo e distruggerlo manomissione che però gli è costata il carcere. Questo provvedimento era stato preso perché negli anni l'uomo era stato protagonista di episodi di violenza domestica ai danni della moglie, maltrattata, vessata, minacciata e insultata anche davanti alla figlia minorenne. La donna non aveva mai denunciato però l'uomo nella speranza che lui cambiasse. I carabinieri intervenuti più volte hanno però segnalato il 39enne alla Procura della Repubblica di Padova che ha emesso i provvedimenti. Torniamo sul tema dell'autonomia. Ne abbiamo parlato col costituzionalista padovano Mario Bertolissi. Sentite cosa ci ha detto. Finisce l'Unità d'Italia. Guardi, si tratta di affermazioni che non hanno il minimo fondamento. È drastico il professor Bertolissi con chi si oppone in Parlamento all'autonomia differenziata. Chiara la sua tesi sulla situazione attuale dell'Italia. L'Italia è una indivisibile. Il punto è che non è mai riuscita a realizzare la cosiddetta e tanto strombazzata coesione economica e sociale per cui tutti sanno che esistono più Italie da sempre. Un'Italia del nord, un'Italia del centro e un'Italia del sud. Quindi di fatto già divisa e non coesa. Dove anche il tema dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni che secondo i contrari all'autonomia dovranno essere comunque garantiti alle regioni, in realtà dimostrerà le capacità o meno delle classi politiche di gestire i singoli territori. Osservo che ove si sono fatti, e mi riferisco ai LEA, a livelli essenziali di assistenza e cioè al campo della sanità, dopo l'introduzione dei LEA non è accaduto assolutamente nulla perché oggi, non domani, esistono varie sanità e tutti lo sanno che quella della Calabria non è quella della Lombardia o del Veneto. Bertolissi, oltre ad essere uno dei redattori del referendum Veneto sull'autonomia, ha partecipato alla commissione del professor Cassese che in pochi mesi ha fornito al ministro Calderogli gli strumenti per definire la legge approvata in Senato. E' proprio dopo questa corsa contro il tempo che il costituzionalista critica aspramente un sistema che dal 2001 non avrebbe mosso un dito sull'autonomia. Io credo che sia sufficiente prendere in mano l'annuario parlamentare vedere quali sono state le maggioranze e le opposizioni fare l'elenco dei governi che si sono succeduti guardare magari anche qualcos'altro, cioè anche alla Corte Costituzionale o comunque ad altri supremi organi dello Stato si fa l'elenco di coloro che sono stati investiti delle più importanti funzioni, quelli di vertice che riguardano la Repubblica e tirare una linea a dire questi sono i responsabili perché avevano a disposizione tempo e non hanno fatto assolutamente nulla. Uno stallo che secondo il professor Bertolissi se non sarà rimosso dall'autonomia porterà tutti gli italiani ad una deriva pericolosa. Se è una deriva bisogna che i costori sappiano che in vista c'è soltanto una cosa, il fallimento. Torniamo sulle strade della provincia per vedere le nuove rotatorie sulla Monselice Mare. Due nuove rotatorie aiuteranno ora gli automobilisti tra la regionale 104 Monselice Mare e la regionale 105 Cavarzere e Romea. L'obiettivo è mettere in sicurezza le strade regionali con traffico intenso e mezzi pesanti presenti in gran numero soprattutto in corrispondenza degli incroci. Un esempio di collaborazione tra comuni, regione e Stato. Gli interventi più richiesti dai comuni sono rotatorie o piste ciclabili quindi veramente una messa in sicurezza importante. Questo fa parte di fatto degli oltre 650 cantieri che sono stati aperti negli ultimi anni. Per realizzare una rotatoria che costa mediamente 700 mila euro ma può superare anche il milione ci sono contributi ai comuni attorno ai 350 mila euro poi serve aiuto per il resto della cifra. Sono interventi importanti, costosi dove i comuni spesso e volentieri non riescono ad intervenire al di là del fatto che è una regionale e quindi la competenza è della regione però anche forse sono incrociate con le comunali i comuni non riescono ad intervenire da soli. Molti li incroci a raso lungo la Monselice Mare che vanno eliminati per la loro pericolosità. Sul territorio stiamo facendo sinergia con i sindaci del Monselicense e del Conselvano per riuscire a mettere in sicurezza tutti quelli che sono gli incroci a raso attualmente esistenti sulla Monselice Mare sulla quale appunto i nostri comuni si affacciano. Quindi anche Monselice ha presentato in Regione Veneto un progetto che vuole essere finanziato per una rotatoria. Un ulteriore effetto positivo di queste opere inoltre è quello di deviare il traffico pesante dai centri abitati. Sforamenti dei livelli di polveri sottili nell'aria torna da oggi il bollino arancione anche a Padova. All'elimitazione del traffico consuete si aggiunge il blocco dei veicoli diesel Euro 5. Nel frattempo domenica prossima le auto saranno ferme all'interno delle mura cittadine per la domenica senza auto. Per tutta la giornata sarà sospesa la circolazione del tram che sarà sostituito da bus per un intervento straordinario di manutenzione alla rete fognare che ACGAS, APS e AMI e GIA dovrà eseguire in riviera dei ponti romani. Andiamo a vedere un intervento sanitario davvero straordinario. Eseguito a Padova in azienda ospedaliera un trapianto di rene da record. A cuore fermo il donatore aveva 92 anni. Ad oggi non risultano donatori non a cuore battente in età così avanzata. Aumenta la popolazione, l'età della popolazione ma anche l'età della popolazione che noi dobbiamo trapiantare per cui le liste si allargano e questo richiede sempre più donazione. Questa donazione ci mette nella condizione di accettare anche organi di età che consideriamo avanzata. Ma come abbiamo sempre detto, quando un paziente o una persona arriva a oltre 90 anni ha sicuramente un buon fegato. Il trapianto a cuore fermo è un'operazione più complessa, fondamentale l'utilizzo delle macchine da perfusione e l'esperienza clinica dei chirurghi. È qualcosa di incredibile che va al di là del concetto che abbiamo studiato in medicina. Se tu hai un cuore che rimane fermo almeno 20 minuti ma fermo vuol dire assistolico e poi lo fai ripartire e poi lo ricondizioni e lo trapianti e lo fai funzionare è qualcosa di incredibile che ha superato le leggi della medicina che tutti fino a poco tempo fa pensavamo che non si potesse fare. Un risultato importante grazie anche al lavoro di Equip. Non ci sono limiti per quanto riguarda l'età nell'ambito della donazione e ha fatto capire anche che di fronte a un percorso così complesso articolato dove c'erano sicuramente delle fasi che potevano pregiudicare il risultato invece siamo riusciti anche con l'expertise e soprattutto ringrazio tutti coloro che hanno collaborato attivamente e attraverso confronti che abbiamo avuto prima di iniziare il percorso arrivare ovviamente al risultato atteso che ha dato la soddisfazione di tutti quanti. Un anno importante il 2023 per i trapianti a Padova. Ricordiamo che abbiamo fatto in quest'anno nell'anno scorso, 2023, 452 trapianti 76 in più rispetto all'anno precedente è uno dei pochi, se non l'unico centro in Italia che esegue trapianti di cuore, di polmone, di rene, di pancreas e di fegato quindi è un centro veramente multitrapianto quindi questo è veramente da sottolineare è un'eccellenza e è un'eccellenza sostenuta, lo ripeto, con forza dalla Regione del Vento. Lutto per la comunità dei frati del Santo vediamo Giornalista, animatore culturale frate attento ai bisogni sociali delle persone a partire dagli anziani inventò il servizio Televita diventato il telesoccorso regionale era poliedrico padre Francesco Antonio Ruffato si è spento ieri nel centro residenziale Santa Maria Gloriosa di Pedavena all'età di 91 anni nato a Santa Giustina in Colle nel 1932 dopo aver studiato nel seminario di Campo San Piero aveva vissuto nella comunità dei frati minori conventuali di Como, Milano, Mestre per poi tornare al Santo nel 2001 giornalista e docente di religione per anni all'Istituto Franchetti di Mestre grande appassionato di teatro aveva scritto molti libri dedicando l'ultima parte della sua attività all'opera di diffusione e valorizzazione della storia di padre Placido Cortese e delle altre vittime padovane del nazifascismo il funerale si svolgerà domani mattina alle 11 nella Basilica del Santo poi la salma di padre Francesco Antonio sarà tumulata nel cimitero di Campo San Piero per oggi è tutto grazie per essere stati con noi vi auguriamo un buon pomeriggio